Questo è il terzo campionato che facciamo e partecipiamo anche al campionato estivo, però il campionato invernale è il terzo. Cosa ne pensi del campionato femminile organizzato da Calcio Liguria? Un bel campionato, l'unica pecca è che quest'anno ci sono un po' poche squadre, nel senso che gli anni scorsi abbiamo sempre avuto un numero di squadre maggiore, così il campionato è anche un pochino più lungo. La nostra squadra nasce innanzitutto da un gruppo di amiche che si ritrovano dopo aver giocato a 11 per un po' di tempo e poi ci siamo divertite molto di più a giocare a 7 e quindi abbiamo deciso di fondare questa squadra con il nostro mister Nico che ci ha dato la possibilità appunto di dandoci tutto quello che avevamo bisogno per iniziare a giocare a 7 e poi piano piano è andata avanti la passione e ora siamo qua con qualche di una decimata per l'influenza ma siamo veramente tante. Quindi eravate un gruppo di amiche già al di fuori di questo contesto? Sì, molte di noi sì, a parte qualche innesto come posso essere io che ne vengo da fuori e qualche altra ragazza aggiuntasi quest'anno, le più, le più anziane sono tutte ragazze che si conoscono dai tempi del calcio a 11 e comunque anche al di fuori del calcio.